In aumento i tumori alla pelle in provincia di Agrigento e questo è il dato allarmante emesso dal registro provinciale dei tumori della pelle istituito nel 2005 diretto dal dottor Domenico Macaluso, chirurgo presso l'ospedale di Ribera. La causa principale sarebbe proprio connessa a un'eccessiva esposizione al sole. La voglia di raggiungere una bronzatura rapida ed invidiabile porta generalmente all'esclusione dei prodotti solari adeguati. I danni derivanti da un'esposizione eccessiva e non protetta nei casi più fortunati danno luogo a scottature e reazioni di invecchiamento precoce della cute. Nei casi più sfortunati, come quelli che sono stati registrati, danno luogo a un aumento del rischio di formazione di tumori alla cute. L'alta casistica dei tumori cutanei riscontrati in provincia impone una riflessione di interventi di prevenzione e tra questi il primo passo sarebbe proprio quello dell'educazione della popolazione alla corretta esposizione ai raggi solari. Solo nei primi otto mesi di quest'anno sono stati infatti registrati circa 600 interventi chirurgici e la cifra alla fine dell'anno potrebbe sfiorare anche i mille casi.